A zero, potevate vincere voi? Forse meritavate di vincere voi? No, insomma. Voi stai trattando bene? Bene, bene, bene. Qui la Settebeli? Bene, sta facendo buone cose. Ecco, se dessero il paese a Cairo, se la revisione della spesa la dessero a Cairo, nel giro di sei mesi... Non esageriamo. No, non si può dire, non lo dite, si sa sempre viaggeria, neanche... No, figurati, vedi la faccia, no, no. Bene, buco lupo a te. Torna a casa, ferma a Firenze subito. Grazie di cuore, ciao. Arrivederci. Una curiosità solo, perché il Parlamento dovrebbe votare una legge elettorale se a metà non verranno ricandidati? Cioè, questo, questo... Questa è una bella domanda. Eh, mi dia la risposta per cortesia. Perché sennò perdono la faccia, perché dopo quello che è accaduto o si fa una legge elettorale degna di questo nome, riducendo anche il numero dei parlamentari, oppure vanno tutti a casa. Lo dice uno che il parlamentare non è. Sai che però più che la faccia ci tengono la poltrona che ci hanno sotto... Beh, questa è una riflessione politica che capisco, ma... E' un commento, grazie. I follower... Ciao, ragazzi, saluto. Ciao capo, ci sentiamo. Ottimo, ottimo. Ciao, ciao. Arrivederci a tutti. Ciao ragazzi. Ciao i follower dell'invasione. Tardi, l'ho preso lo stesso. Ciao, ragazzi. Ce l'avete il follower della lapdance in segreteria? Ciao. Ciao. Alla storia.